Le carissime amici ed amiche salve a tutti buona domenica e questa domenica come ho detto pure per altri video facciamo una riflessione un po più breve su questi principali casi che stiamo seguendo e come non potremmo parlare della povera Pierina un caso che sembrava andare verso una conclusione lampo ecco se così la vogliamo dire invece sembra che si sia arenata sembra quasi che non ci sia quel guizzo fondamentale quella svolta che ci si attende ma gli inquirenti sapranno per scarità però quello che appare evidente in questo caso quindi parliamo di opinione per carità e nessuno si si senta di zelato su questo ma bisogna escludere qualsiasi pista che non sia legato all'ambiente familiare addirittura c'era stato quella piccola suggestione se avete visto delle telecamere della farmacia che inquadrava l'autovettura della povera Pierina che scendeva sotto al garage e poi sembrava esserci due ombre dietro due ombre dice forse erano persone no è stato verificato molto bene lo possiamo confermare in questa sede che quelle ombre non erano altre che ombre della ringhiera che andavano a muoversi in corrispondenza delle luci e delle luci posteriori dell'autovettura quindi non c'era nessuno nessuno che seguiva nessuno che poteva entrare assolutamente è certo che chi aspettava Pierina l'aspettava sapendo che lei rientrava a quell'ora che stava rientrando e che era soprattutto sola sola perché era una delle pochissime volte che non era accompagnata dalla nipote e allora sappiamo che se rimaniamo nel cerchio familiare si va sempre e comunque a parlare di Loris di Manuela e di Luis di Luis che è una figura non ben ancora definita non si sa si sa che era un po' diciamo l'amante però non sappiamo fino a che punto possa avere forse qualche responsabilità però le stranezze ecco le stranezze sono soprattutto al mio modo di vedere in capo a Loris perché è un po' è un po' tutto si inizia dal fatto che c'è quel invito a cena così strano lui che quasi mai andava a casa della della sorella c'era quasi auto invitato un invito a cena che corrispondeva col fatto che la che la ragazzina la figlia di Manuela non andasse con la nonna un Loris che quindi da un alibi alla sorella e la sorella che da un alibi al fratello Loris e non dimentichiamo che i due stavano insieme anche quella mattina in cui ci fu il cosiddetto incidente chiamavolo incidente a Giuliano e poi e poi c'è un modo di esprimersi una una sorta di sfrontatezza di un eccesso di sicurezza lo vogliamo chiamare di questo Loris che dice mi hanno sequestrato tutto così colà ma è la prassi non c'è niente di che le foto quelle foto fatte perché così mi mettevo a tesa con il cane ma fatte proprio in quegli orari abbiamo abbiamo la ragazza che all'inizio dice lo zio è andato via verso le 22 e 10 poi magari si sarà cosetta poi magari dicono ma forse la ragazza è andata in bagno è andata in camera sua non mi ha visto sono suggestioni queste ma soprattutto soprattutto uno come lui che dice che poi fondamentalmente in maniera stritta non fa nemmeno parte della della famiglia di Pierina se la vogliamo dire tutto perché Manuela è la nuora però lui è il fratello della nuora è un senso molto lato eppure dice lui che è così forte e sicuro dice guardate io adesso cammino con lo spray al peperoncino perché ho paura che qualcuno possa farmi del male mi sembra una cosa così paradossale anche quella a volte sappiamo che sono queste ragazze giustamente che camminano con lo spray al peperoncino in queste notti magari queste sere in cui si dicono tante cose in questi ambienti pericolosi lui lui ne dì di meno così come grande e grosso come è cammina con questo spray al peperoncino sono atteggiamento sono atteggiamenti che onestamente a me lascio delle perplessità che volete che vi dica però finché le persone non sono inquisite noi non è possiamo fare delle ci sono delle suggestioni ma la suggestione più grande pure è con Manuela vedete Manuela senz'altro non può essere sospettata addirittura a livello materiale non può essere mai sospettata perché è stato accertato che in quel famoso audio la voce è maschile cioè colui che accortella a morte la povera Pierina è un uomo o dice ciao non dice ciao cambia poco è un uomo ma la figura di Manuela è emblematica perché se dovesse entrarci qualcuno a livello familiare è ovvio che in qualche modo poi c'entri anche lei e qual è la cosa strana la cosa strana ci sono diverse cose strane ma oggi vi potrei dire una cosa strana che mi è stata fatta notare da una da un'amica di cui adesso mi sfugge il nome nei commenti però ve la dico dopo la prima cosa strana era che lei entra dice che vede questa donna con il volto verso su appoggiato a un giocattolo quindi lei parla di un volto che vede il volto ma allora già come si fa a vedere il volto di questa donna e non riconoscere la sua cia cioè questo è strano poi scavalca questo corpo e va a chiamare il vicino poi va a chiamare Luis il vicino aspetta giù lei scende e vanno tutti e quattro lì insieme e non riconosce ancora la sua cia come pure l'altra stranezza di Emanuele è quello che la sera prima lascia l'auto fuori l'auto fuori di sera se c'è il garage non la lasci allora lei cosa dice a un cronista dice no l'auto fuori perché a volte ci sono c'erano state qualche scossa così di terremoto per paura del terremoto voi pensate no l'auto fuori perché se casomai veniva un terremoto e dovevano scappare l'auto già stava fuori e invece di scendere giù poi nel garage capirete è credibile che lei possa aver lasciato l'auto fuori per paura che poteva venire il terremoto e poi però non c'è più la paura del terremoto la mattina quando accompagna la figlia e mette l'auto nel garage e tutto ma la novità cioè la riflessione che mi è stata suggerita da questa amica di cui mi sfuggi il nome chiedo scusa analisa mi sembra comunque andate a vedere nei commenti giustamente fa un'osservazione che a me era sfuggita cioè per quale motivo manuela quando sale a bussare per chiedere diciamo aiuto diciamo per chiedere che vengono a vedere perché non bussa alla suocera perché non bussa alla porta della suocera voi pensate va al primo piano e bussa al mordavo poi sale sopra passa davanti alla porta della suocera non bussa va a bussare a a luis e dice poi anche una cosa strana gli ho raccontato tutto tutto cosa poi di scende di nuovo passa di nuovo davanti alla porta della suocera perché non bussa alla suocera non mi dite perché va bene non c'erano buoni rapporti non è che stai andando a bussare per dire mi vuoi fare la costesia oppure andiamo a fare una passeggiata normale che se c'è un cadavere per le scale giù normale che mi viene da bussare le persone che più conosco e andava a bussare perché non ha bussata la suocera allora se uno fa un retropensito ecco non ha bussata la suocera forse perché allora avrebbe fatto meglio ecco per togliere anche questo dubbio aver bussata la suocera perché magari ecco se non fosse stata lei usciva c'è una persona invece non ha bussata e questo per me è una stranezza ditele quello che volete per me è una stranezza una stranezza come pure la stranezza degli incidenti di di questa di questa storia l'incidente a giuliano che è incredibile un incidente quasi mortale del 7 maggio e e per coincidenza l'incidente del giorno prima a questo luis sempre sulla moto su una moto che 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 gli va anche bene perché lui c'è un fisico molto atletico ma rimane danneggiato e questo incidente non lo so sarà casuale anche questo ma come si potrebbe ipotizzare una voglia di eliminare le persone vicino a manuele in qualche modo una forma di odio misto a follia non lo so sarà una suggestione anche questa però non si sfugge al contesto familiare e allora mi chiedo possiamo fare un passo avanti in questa storia ce lo diranno credo in settimana gli inquirenti grazie amici miei buona domenica sera un abbraccio a tutti quanti voi